cari amici ci troviamo dinanzi all'icona dell'aggiosoritissa la madonna di san domenico della serie delle madonne di san luca qui a roma presso il monastero domenicano di santa maria del rosario a monte mario questa comunità monastica è nata circa 800 anni fa per opera di san domenico guzman il fondatore dell'ordine dei predicatori ha fondato a roma per mandato del papa a san sisto una comunità di contemplative radunando sette monasteri romani tra cui vi era il monastero di santa maria in tempolo che custodiva questa icona mariana molto amata dai romani le monache vennero persuase da san domenico così aveva voluto il papa senza forzarle a trasferirsi presso un nuovo locale presso la chiesa di san sisto ma chiesero di portare con sé questa prodigiosa icona anzi l'icona se fosse rimasta con loro sarebbe stato il segno divino ecco della nuova fondazione perché precedentemente il papa aveva cercato di sottrarla le monache per portarla a san giovanni in laterano e l'icona a volo d'uccello dice la leggenda era ritornato presso il monastero delle monache san domenico accettò e i voti religiosi l'obbedienza che professarono a lui le monache fu condizionata proprio dalla presenza di questa icona ebbene negli 800 anni di storia della comunità che si è trasferita anch'essa sempre a roma in altri luoghi da san sisto a san domenico esisto attualmente sede della pontificia università san tommaso d'aquino angelicum e infine nel 1931 approdarono presso la chiesa di santa maria del rosario qui a monte mario sempre con la presenza dell'icona che è il sigillo della presenza mariana nella vita e nell'opera di san domenico a cui la tradizione attribuisce l'istituzione del santo rosario bene questa icona è antichissima viene dall'oriente è stata sottratta alla furia iconoclasta e fu nascosta trafugata possiamo dire ed è stata venerata per tanti secoli sempre all'interno delle della clausura viene girata dalla parte dei visitatori dei fedeli all'occorrenza in passato molto raramente ora forse un po di più perché veniva custodita come un tesoro prezioso che poche volte all'anno veniva mostrato la sua festa è stata fissata il 27 di giugno di ogni anno è una reliquia preziosissima domenicana perché santo domenico nostro fondatore la portò sulle sue spalle a piedi nudi con le fiaccole accese presso il monastero di san sisto il 28 febbraio 1221 ci apprestiamo a celebrare proprio agli 800 anni della fondazione della comunità l'anno prossimo e anche durante la peste a roma fu portata in processione dal papa sembra e sembra che fosse proprio questa icona ecco che quella che portò san gregorio e quando videro l'arcangelo gabriere nell'atto l'arcangelo michele scusate nell'atto di riporre la spada nel fodero lì a castel sant'angelo affidiamo a maria la nostra causa chiediamo la protezione su roma sull'italia sul mondo in questa pandemia ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen questa è la chiesa di santa maria del rosario qui abbiamo il coro monastico nel quale è conservato anche la reliquia del cranio della calotta cranica di san domenico e anche il suo briviario ecco vedete c'è l'immagine in fondo proprio della professione delle prime beate delle prime monache a san domenico e qui è conservato anche la mano sinistra di santa caterina da siena infatti il monastero è il risultato della fusione di due monasteri san domenico e sisto angelicum attualmente sta l'angelicum con santa caterina magna napoli dove si trasferirono le discepole di santa caterina da siena nel 1910 quindi prima di giungere qui a monte mario le due comunità si fusero e il nuovo nome fu proprio monastero dei santi domenico e caterina normalmente non si dice questo ma il vero nome dovrebbe essere monastero dei santi domenico e caterina davvero insieme ecco colui che ha fondato l'ordine dei predicatori ecco lei la figlia che in qualche modo è diventata anche la madre di questo ordine dei predicatori con lei che al femminile ha incarnato al meglio l'ideale lo spirito di san domenico ecco pur trattandosi di una mantellata di una laica però è la domenicana per eccellenza per tutti anche per le contemplative per i frati e ovviamente per gli stessi laici un'unica famiglia con diversi stati di vita con un'unica missione l'evangelizzazione e sempre uniti a maria regina del santo rosario avvocata nostra prega per noi grazie a tutti